Possiamo pensare che normalmente chi respira più alto perché molto spesso ha una tendenza visita cerca di processare le informazioni molto visivamente molto tramite immagini dico tendenza perché non siamo in PNL si dice mai categorizzare, mai dare delle etichette quindi non diciamo sì, poi magari così coloquialmente diciamo un visivo però in realtà sappiamo che noi in quel momento l'abbiamo osservato, abbiamo visto queste cose e quindi l'abbiamo visto che corrisponde in maniera visiva non andiamo mai a generalizzare, a dire lui è così, lui è così noi diciamo l'abbiamo osservato e abbiamo visto questo il nostro campo di osservazione è questo non si categorizza in PNL quindi i tipi visivi hanno tendenza cioè una persona in alto molto spesso ha tendenza visita e processano informazioni per immagini grazie 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 grazie